Ben trovati con il TGLIS di Telebari. Devo fare i complimenti a tutti i pugliesi, sono stati molto oltre all'altezza del compito e penso che questa fosse la risposta migliore ai soliti pregiudizi letti sulla stampa internazionale. Qualcuno può essere arrivato con una idea e tutti sono andati via con un'altra idea. Così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa conclusiva del G7 a Borgo e Gnazia, in provincia di Fasano. Alla domanda in conferenza stampa G7 sulle proposte di Putin per lanciare una trattativa di pace in Ucraina, Meloni ha risposto, mi sembra più una mossa propagandistica che reale. E ancora G7, il vertice ribadisce l'impegno compatto per difendere il sistema internazionale di regole basato sul diritto messo a repentaglio con la guerra di aggressione russa. Anche se c'era chi pensava il contrario, intendiamo continuare a sostenere l'Ucraina e abbiamo scelto di rafforzare le nostre linee di azione con un impegno a 360 gradi. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 di Borgo e Gnazia a Fasano, in provincia di Brindisi. Meloni ha ricordato anche l'accordo non scontato sui profitti degli asset russi da definire dal punto di vista tecnico nelle prossime settimane. Al Fonsino Pisicchio non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la politica nonostante le dimissioni dai movimenti da lui stesso fondati. Lo scrive il GIP Ilaria Casu per motivare il rigetto della richiesta di revoca degli arresti domiciliari avanzata la scorsa settimana dalla difesa dell'ex assessore regionale. Richiesta respinta nonostante il parere favorevole della Procura che giovedì ha fatto notificare l'avviso di conclusioni delle indagini. L'ex assessore regionale e il fratello Enzo sono finiti ai domiciliari il 10 aprile con l'accusa di concorso in turbativa d'asta e corruzione per un appalto da 5 milioni di euro del Comune di Bari. Poco più di 3.500 euro a tanto ammonta il danno economico causato all'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari dagli infermieri che tra il 2019 e il 2021 avrebbero rubato farmaci e dispositivi sanitari dalla struttura per utilizzarli in visite private in nero. Il valore dei beni sottratti è stato quantificato dalla farmacia dell'ospedale e depositato in un documento nell'udienza per il rinvio a giudizio dei 12 imputati tra i quali l'ex oncologo Vito Lorusso. Sarà aperto al pubblico da lunedì 17 giugno parco Bonomo acquisito alla proprietà comunale nell'ambito dell'accordo di programma INED sottoscritto dalla ripartizione urbanistica. Il parco della Villa Settecentesca vincolato dalla soprintendenza si estende su una superficie di 20.000 metri quadri e conta 250 alberi, trappini e olivi secolari. La nuova area pubblica è stata dotata anche di un anfiteatro con piantumazioni e un piccolo palco che potrà ospitare eventi. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. I carabinieri del Nassano sequestrato circa 3.400 giocattoli non conformi nel corso di un'ispezione in un esercizio commerciale a Trani i militari hanno scoperto migliaia di palline luminose e palloncini colorati in plastica di varie dimensioni privi della marcatura CE e delle etichette conformi alla normativa. Mancavano anche informazioni essenziali come i materiali utilizzati e le istruzioni in lingua italiana. Il materiale del valore di oltre 2.600 euro è stato sequestrato al titolare del negozio una multa di 8.000 euro. Proseguono i controlli delle comunità al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. È stata la volta di San Ferdinando di Puglia dove nell'ambito di un controllo delle attività recettizie sono stati identificati nove cittadini extracomunitari di origine marocchina i quali a seguito di operazioni di identificazione sono risultati irregolari sul territorio. Il focus rimane sempre lo stesso, prossimità al cittadino e pacifica convivenza con le stazioni carabinieri al servizio e al fianco di ciascuno. Sarà la prova dello stub a chiarire se sia stato il 37enne Nico Salamina uno dei soggetti che nel tardo pomeriggio di ieri esplosò colpi di pistola nel quartiere Tramontone. Il 37enne è stato fermato nella notte ma per il momento solo con l'accusa di porto abusivo di arma da sparo. Le prove scientifiche alla ricerca di particelle di polvere da sparo potrebbero invece confermare i sospetti degli investigatori della squadra mobile diretti dal dirigente Luigi Vessio che fin dai primi accertamenti si erano messi sulle sue tracce. Due agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto nel carcere di Foggia. Lo ha reso noto Federico Pilagatti della Segreteria Nazionale del Sappe precisando che un poliziotto è stato colpito con calci e pugni. Poi il detenuto si è scagliato anche contro un secondo agente intervenuto a difesa del collega. Entrambi sono stati medicati al policlinico riuniti e dimessi con una prognosi di sette giorni. La Regione Puglia ha autorizzato l'utilizzo fino a 4 milioni di euro delle risorse regionali della programmazione triennale ambientale della provincia di Foggia per intervenire in modo duraturo sui canali artificiali che collegano al mare i laghi di Lesina e di Varano in modo da ridare ossigeno e rivitalizzare l'ecosistema lagunare costiero più grande d'Italia. Per consentire l'ossigenazione delle lagune saranno immediatamente realizzate operazioni per disostruire i canali e migliorare la circolazione delle acque tra laghi e mare. E con il TgList è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento. Grazie a tutti.